Questa federazione è in carica da circa 20 mesi e ha un passo differente per quanto riguarda quello che è il rapporto tra cittadinanza e i medici. I medici non devono essere distanti col camice bianco, isolati per quello cittadino, i medici sono al servizio dei cittadini, hanno dedicato la loro professione, la loro vita a quelle persone. Però serve un'organizzazione, serve anche un background per poter esplicare la propria professione e quindi noi dobbiamo puntare su una sinergia con cittadinanza attiva con i pazienti per migliorare quello che è l'erogazione delle risorse, risorse del servizio sanitario nazionale.